Per il terzo anno consecutivo, l'Associazione Terni Col Cuore ha deciso di riproporre l'iniziativa al Mare Col Cuore. Cento tra bambini e ragazzi del nostro territorio e delle case famiglia trascorreranno una settimana di vacanza in villaggi turistici dotati di ogni comfort, tra Campania, Abruzzo ed Emilia Romagna, seguiti in ogni momento da operatori professionisti. L'Associazione ringrazia le numerose aziende amiche che hanno voluto, anche quest'anno, offrire il proprio contributo con il solo scopo di rendere felici i bambini ed i ragazzi coinvolti nell'iniziativa. Grazie dunque a Tenuta Fogliani, L'Energia, Garofoli S.P.A., Telematica Italia, Orsolini, Troiani Bus, Fattore Umbro, Sinergo, Unipol, All Foods, Lead Broker, ES Vending, Generali, Secur 3 Level, BCC. Grazie anche alla Marat Football Management dell'agente Mario Giuffredi, alla GP Soccer & Management dell'agente Giampiero Pocetta, la Bc Group Agency dell'agente Emanuele Chiaretti e all'agente Tullio Tinti. Grazie anche alla Rosa della Ternana Calcio e allo staff Rosso Verde. Terni col cuore, dalla città per la città.